un padre dell'arte contemporanea italiana così si può ridurre all'essenza giorgio morandi pittore e incisore è diventato celebre per le sue nature morte con tazze bottiglie e vasellane la sua è una pittura calma e contemplativa ricca di poesia l'artista visse tutta la vita a bologna sua città natale già da piccolo espresse un forte interesse verso la pittura si iscrisse nel 1907 all'accademia di belle arti della città e cominciò a dipingere paesaggi anche se poi finì per specializzarsi quasi esclusivamente in nature morte il catalogo ufficiale di morandi cominciò nel 1911 con un paesaggio che sottolinea l'attenzione del pittore al semplificare al cercare pochi elementi essenziali negli anni della formazione furono importanti per morandi le letture di ardengo soffici scrittore saggista poeta e pittore leggendo poi la voce e la cerba oltre che diverse riviste d'oltralpe si convinse che la natura morta avesse grandi possibilità espressive orientò a questo genere il resto della sua attività di pittore l'artista si impose una vita appartata legata al piccolo atelier di via fondazza a bologna la sua arte calma e immobile si distinse rispetto al clamore causato dai diversi movimenti artistici moderni a lui contemporanei inizialmente il nome di morandi si legò alla pittura metafisica italiana ma fu sempre riluttante ad abbandonare completamente il mondo del tangibile e del concreto per morandi furono molti legami con l'arte passata il seicento in particolare lo influenzò ma si lasciò guidare anche dall'arte di cézanne che stimava moltissimo de rennes e rousseau il doganiere lo stile di morandi ha inoltre qualcosa in comune con il purismo ma è più sottile e intimo le composizioni dell'artista si indirizzarono all'utilizzo di oggetti e ambienti di vita quotidiani i suoi dipinti divennero tenui nature morte con scatole frutta pani e vetri oltre a tovaglie e a qualche fiore a far da protagonisti l'aura quieta e intensa delle sue nature morte rappresenta una meditazione sulla natura stessa degli oggetti per quanto riguarda la tecnica non si applicò solo all'olio su tela l'artista si interessò molto anche alla produzione di stampe a incisione attività iniziata presto ma che conobbe un'impennata a cavallo degli anni 30 a parte la qualità altissima di questo aspetto del suo lavoro i fogli mostrano anche il grande impegno di morandi per il segno grafico entrò in gioco ben presto anche l'acquerello grazie al quale i limiti degli oggetti e quindi la loro scansione sul foglio si collocarono tra diverse emulsioni del colore diluito pur riducendo all'essenziale gli oggetti morandi non trascurò mai il soggetto soggetto volutamente portato a estrema semplicità e spoglia quotidianità come realtà apparentemente anonima morandi godette di un buon successo di critica e in vita collezionò diversi premi nel 1939 vinse il secondo premio di pittura alla quadriennale di roma nel 1948 invece si aggiudicò il primo premio alla biennale di pittura ma nonostante questi riconoscimenti l'artista fu sempre a disagio di fronte all'attenzione scaturita dalle sue opere l'essenza unica e peculiare della ricerca artistica di morandi è tale da far sì che i suoi dipinti siano costantemente amati e apprezzati da pubblico e critica nel 1993 a 30 anni dalla sua morte a bologna è stato inaugurato il museo morandi proprio dove c'era la casa atelier dell'artista oggi il museo contiene la più ricca collezione di opere di questo schivo modesto e affascinante pittore se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento una critica ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video ciao